ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di brawl star per oggi volevo vedere le mod perché io ho sempre l'inserato i server privati ma oggi volevo vedere le mod come sono old skin model upgrade skin mod menu non so perchè aspettiamo 15 secondi ok possiamo fare allora questo dovete mettere https due punti slash e poi mod tube app avete capito punto com questo è l'url bisogna mettere poi cliccate download cliccate download mantenete per tutto quello che faccio io perchè sono il bambito come una mucca allora qui dovete fare mettere like quindi io non voglio prendere stavo dicendo non voglio prendermi il copyright perché il copyright per me è una cosa seria anche perché guadagno un centesimo a video e anche perché ci tengo quindi ciao dopo ok ragazzi ho fatto tutto ovviamente c'è tutte le cosette lì e possiamo fare download finalmente aspettiamo 4 3 2 secondi un secondo e possiamo cliccare continua benissimo ragazzi successo ok proviamo download ok ragazzi e ragazzi questo dovrebbe installare esatto si stiamo installando e raga che abbiamo fatto volevo dire soltanto che è molto semplice potete il video di farlo e comunque ci vediamo in un prossimo video che è il prossimo video proveremo questo questo mod ciao raga